Sicuramente dobbiamo fare una partita importante contro un avversario difficile, lo ha dimostrato in questo inizio di campionato e nel campionato scorso. È una squadra collaudata che ha cambiato poco, ha una sua identità, un suo modo di giocare che gli ha portato a far benissimo la passata stagione. Non abbiamo bisogno della prestazione perché secondo me attraverso la prestazione arriverà il risultato. In questo momento uno pensa, l'ho detto anche ai ragazzi, chi siamo? Quelli del Brescia o quelli di Chiavari? Io credo che siamo quelli del Brescia, a patto che affrontiamo questa gara come l'abbiamo affrontata con il Brescia, che la prepariamo come l'abbiamo preparata con il Brescia, con la giusta attenzione, con la giusta concentrazione. Mister, sarà certamente una gara molto difficile, d'altronde insomma il Trapani lo sappiamo che l'anno scorso è arrivato praticamente a poco dalla Serie A e ha conservato gran parte di quella ossatura. L'Avellino dovrà fare la partita e dovrà farla anche con la consapevolezza che in avanti c'è un trio tutto sommato da dover sfruttare un poco insomma al massimo, vale a dire oltre alla coppia d'attacco della prima e seconda puntante Magni e Castaldo, magari avrà anche la possibilità di vedere un verde dal primo minuto, il che in qualche modo presupporrebbe un maggiore sacrificio da parte della mediana perché chiaramente ci sarà da fare i conti con il non possesso e quindi con le ripartenze del traccio. Ma non tanto della mediana, noi abbiamo fatto una buona prestazione con il Brescia perché abbiamo lavorato di squadra, dagli attaccanti ai centrocampisti ai difensori. Quello deve essere l'atteggiamento giusto per poter fare una buona prestazione. Questo è un momento in cui tante squadre ancora vanno alla ricerca della propria identità, soprattutto le squadre che hanno cambiato tantissimo. Il Trapani ha cambiato poco. Sappiamo l'identità del Trapani, per questo ho detto ai ragazzi che bisogna fare una partita cagliarda, concentrata, ma con tanta personalità e con tanto coraggio, come abbiamo fatto con il Brescia. Perché sono convinto che siamo quelli di Brescia, non quelli di Chiavari. Ministro, ci siamo bilanciati in una settimana dicendo che avrai tanti dubbi legati soprattutto fortunatamente all'abbondanza di scelte in diversi settori, però tu ci tieni particolarmente all'assetto difensivo di questa squadra, un assetto difensivo che potrebbe cambiare domani contro il Trapani, in virtù dell'assenza di Don Corra, soprattutto in virtù dell'attivo di Dinsidi. E poi ti chiedo, già c'è stata questa prima alternanza di cortieri tra Fattani e Radunovic. Possiamo finanziarci sul titolo per all'umano. Ma sono tanti dubbi che mi porto dietro fino a domani mattina, anche perché ho visto la squadra bene, quasi tutti mi stanno mettendo in difficoltà nelle mie scelte, quindi sono dubbi che mi porterò fino a domani mattina. Ma credo che se con l'applicazione e con il lavoro potrebbe essere un ruolo che lui può ricoprire. Per qualità tecniche, per imprevedibilità, bisogna che migliori nella fase di non possesso, ma ci sta mettendo applicazioni, ci sta mettendo impegno. Perché se no perdi l'equilibrio per questa squadra, è necessario l'equilibrio per questa squadra. Ripeto, l'abbiamo visto quando l'abbiamo mantenuto col Brescia, ma tutte le squadre non si possono permettere di non avere equilibrio, di avere calciatori che facciano solo una sola fase. Ma credo che possa ricoprire quel ruolo. No, ma veramente ho dei dubbi. Ma per quanto riguarda Ardemagna, ha fatto anche bene quando è entrato a Chiara. Con grande applicazione, con grande motivazione è entrato in campo. Questa settimana ha fatto una buona settimana. Credo che possa essere pronto per scendere in campo. Gavazzi, la costituzione anche di Chiara era anche quella in chiave di minutaggio per Gavazzi, che ha fatto 70 minuti. si è allenato bene questa settimana. Credo che la sua condizione sia cresciuta. Possa essere della gara. Mi sei però, ha fatto un calciatore che è passato dai equilibri. Dove lo aspetta? Come lo sentiamo? Il passo del calciatore cani? Quanto delle linee? Per questo gioco è una calciatore che è un calciatore che rompe gli equilibri. Tatticamente è difficile da collocare, perché si muove tantissimo, va a prendersi la posizione giusta. Ha giocato la prima partita da mezzo destro, la seconda partita da mezzo sinistro, ma durante la gara si è mosso tantissimo. Quel calciatore che ti dà quella qualità in più ha una squadra ben messa in campo. Bisogna stare attenti, soprattutto lui, ma soprattutto alla squadra del Trapani. Ripeto, è tanto tempo che gioca insieme. Hanno delle peculiarità importanti che abbiamo studiato l'altra settimana, ma ripeto, la cosa più importante è che la mia squadra scende in campo come quella che è scesa col Brescia. M. Buongiorno, domani tra l'opportunità di una squadra, potrà scegliere un terzetto che è in mente? M. Buongiorno, domani tra l'opportunità di una squadra, potrà scegliere un terzetto Chi ha visto l'opportunità di una squadra? Ma tutti, l'ho detto, tutta la squadra si è allenata bene questa settimana, l'ho vista consapevole di non aver fatto una gran partita a Chiavari, di aver commesso tanti errori, soprattutto nell'atteggiamento, soprattutto nell'equilibrio. L'ho vista vogliosa di riscattare la prestazione, poi il risultato è figlio della prestazione di Chiavari. Quindi tutti si sono allenati bene, concentrati e, ripeto, mi porterò tanti dubbi fino a domani mattina. M. Buongiorno, domani tra l'opportunità di una squadra, l'ho vista domani tra l'opportunità e l'opportunità di una squadra. Ma ancora non è disponibile, non è tra i convocati. Paghera sta crescendo, è un calciatore che ci può dare tanto secondo me. È normale come Gidai, come Givari, come Givari, come Givari, Pazzi, non aver fatto l'intero precampionato, non essersi allenati con i compagni, soprattutto nella confidenza del compagno, del reparto, della squadra, hanno pagato qualcosa. Però stanno crescendo tutti. No, a parte anche dopo la prima vittoria. E quando hai tanti dubbi sei pensieroso. Quando hai tanti dubbi sei pensieroso e devi fare la scelta giusta. Ma credo che la gente non abbia bisogno del mio appello. Perché io ho visto la gente che c'è stata col Brescia e come ci ha trascinato e come ci ha sostenuto. Credo che ho le 300, le 500 unità in meno e chi verrà al campo sosterrà la squadra dal primo al novantesimo. Di quello sono sicuro. Ma la gente deve confidare nel lavoro dei ragazzi che secondo me stanno lavorando bene e secondo me il lavoro poi alla fine pagherà. l'ultima domanda. L'ultima domanda. L'ASIC viene da uno stato febbrile che l'ha condizionato tutta la settimana. Oggi si è allenato con la squadra, anche abbastanza bene. Anche questo devo valutare bene domani. Crecco l'ho visto molto concentrato. Sarà perché è un ex ma l'ho visto abbastanza bene durante la settimana. Ripeto, sono tanti dubbi che mi porto fino a domani mattina. Come sta? Va qua bene. Bene. Quindi sicuro la squadra è andata chiaramente. Se c'è di un film di due cose. Spero di alzaccarla io. No, posso.